Salve e benvenuti sul canale Pratiche Sartoreale alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana. Oggi con voi sono io Natalia e faremo insieme la modellistica per questa bellissima gona in organza per Inga. La gona è lunga, svasata, a portafoglio. Il lato sinistro è sotto quello di destra e arriva fino alla cucitura del fianco destro. Possiamo dire che la gona è a doppio petto con doppi bottoni sul davanti che saranno funzionali per dare la possibilità di indossare la gona con facilità. Ci sono due grandi tasche laterali con le pate. Per quanto riguarda la pence probabilmente manteremo la pence vita dietro per evitare inutili volumi nella zona della vita e dei fianchi. I bordi centrali dei due lati davanti sono arrotondati verso il fondo e saranno rifiniti con paramontura. Vedete abbiamo tratteggiato la paramontura così si capisce meglio e nello stesso modo faremo anche l'orlo. Questo modello è molto bello fatto in organza. Ecco qui il nostro tessuto, è di buonissima qualità con una bella struttura che tiene bene la forma. Per il momento mettiamo a parte il tessuto e iniziamo il nostro lavoro. Abbiamo ricalcato la base gona di Inga essendo un capo asimmetrico sul davanti come vedete abbiamo ricalcato l'intero davanti cioè entrambi i lati mentre per il dietro abbiamo ricalcato solo la metà perché il dietro del modello non è asimmetrico. Iniziamo con il davanti. Questo è il nostro dettaglio aperto. Traccio la linea del centro davanti e scrivo subito centro davanti. dalla linea del centro misuro 8 centimetri in entrambe le direzioni per segnare il doppio petto c'è la bottonatura più di 8 centimetri saranno troppi. Cioè 8 bastano. Segno i tracci o la linea delle 8 nella direzione esterna rispetto alla linea centrale. Questo sarà il bordo della parte destra della gona. Cioè dovete proprio tracciare una linea qui. questo è il bordo della gona parte destra. L'altra linea delle 8 centimetri la segno per orientarmi in realtà non mi serve adesso. 8 è abbastanza per la chiusura. E ora devo fare una bella linea arrotondata andando in fondo. Vedete? È arrotondata. Quindi parto più o meno da questo punto sulla linea del bordo del portofolio e faccio una bella linea arrotonda verso il fianco. La lunghezza della nostra gona è di 85 centimetri. In questo modo. Vedete? Arrotondata in questo modo. Bene, ora possiamo immaginare come sarà. Guardando dalla linea del centro possiamo capire come sarà l'apertura davanti e da quello che vedo direi che posso alzare un po'. Direi fino a questo punto. E ora facciamo una nuova linea. Vedete? Ecco qui. Cancello quella che non serve. Quando la gona si chiude e la parte destra si sovrappone alla sinistra questa sarà l'apertura del davanti. Ma adesso ve la faccio vedere. Vedete? Quando si chiuderà vedete più o meno qui si chiuderà e questa sarà l'apertura totale. Direi che l'altezza è giusta. Chi vuole può alzare di più. Intanto io lascio così e poi alla prova si deciderà se fare un po' più alto. Ora dobbiamo decidere l'altezza del fianco fino a quale arriverà al lato sinistro. Dobbiamo capire fin dove arriva, vedete, che arriva nel fianco, a quale altezza arriverà al lato sinistro. Misuro 10 cm dalla linea vita e segno dove sarà più o meno la linea della tasca. Le tasche saranno abbastanza grandi. Prendo 23 cm per l'altezza della tasca. Quindi siamo arrivati a 33 cm. Più o meno. E lascio altri 5-6 cm sotto la tasca. Quindi siamo arrivati più o meno a 40 cm dalla linea vita. Sono misure indicative. Ognuno sceglie quello che più gli piace. Vedete? Sono 40 cm. Ora posso disegnare il lato sinistro della gona. Segno il punto di 40 cm sulla linea del fianco destro. E partendo da questo punto faccio una linea che passa dal punto di incrocio tra la linea del centro e la linea del portafoglio che abbiamo fatto prima. In questo modo. Ecco, questo punto segnato con la matita. Passiamo per di qua. E questa sarebbe la linea del davanti del lato sinistro della gona. parte dall'orlo, passa dal punto del centro davanti e arriva al punto 40 sulla linea del fianco. Segno tutto con un altro colore. Credo che ora sia tutto più chiaro. Adesso ci manca solo di fare la svasatura. Vedete? Dietro sinistra e destra fatta. In realtà non voglio una gona molto svasata. Ci basta solo chiudere le pence vita davanti. Traccio subito le linee verticali partendo dalle punte delle pence e lavoro solo con la parte destra. Dopo riporteremo tutto anche sulla parte sinistra. E dopo riporteremo tutto. Taglio la pence fino in fondo. la chiudo. Questa sarà la nostra svasatura. Per non avere un'onda unica qui dove abbiamo aperto direi di suddividere la svasatura in due. Traccio quindi una seconda linea verticale parallela a quella di prima. Qui. Taglio di nuovo. e ora suddivido la svasatura di prima in due. Insomma possiamo suddividerla in due più o meno parti uguali. In questo modo la gona sarà più bella davanti e più proporzionata. Ora metto lo scotch. Vedete abbiamo diviso la svasatura in modo tale che sia più o meno uniforme su tutta la gona. Metto lo scotch e sistemo per bene tutto. Questa piccola pence che è rimasta. Saranno 4 o 5 mm. Praticamente la tolgo dal fianco. Vedete questa qui si toglie semplicemente dal fianco. In questo modo. Qui. Togliamo dal fianco. Ora posso ritagliare il nostro davanti sulla linea arrotondata del portafoglio. E subito scrivo tutto. Scrivo dritto davanti parte destra e dritto filo. Adesso devo fare la parte sinistra. Prendo un nuovo foglio di carta trasparente e posiziono sopra e riporto le linee. segno subito la linea del centro davanti. La linea vita. La linea vita. questa è la linea del fianco e questa è la linea in fondo questo è centro davanti ora giro così la carta in questo modo sovrappongo le linee del centro davanti e quella vita e posso riportare quella del fianco vedete come l'abbiamo fatta così la riportiamo linea vita vedete qui arriva fino in fianco e riporto anche la linea in fondo dovete fare una bella linea armoniosa mi raccomando e questa è la nostra parte sinistra è uscito fuori un dettaglio abbastanza grande perché nella parte alta praticamente copre tutto il davanti della da un fianco all'altro ora ritaglio tutto vi faccio vedere entrambi i dettagli ecco qua abbiamo la parte sotto che la nostra parte sinistra e la parte sopra che la parte destra sovrappongo la linea del centro davanti scrivo subito parte sinistra dritto centro davanti e ora siamo arrivati al momento del nostro trucco come si vede nella foto che abbiamo usato come modello sul davanti la parte sinistra arriva fino al fianco destro di conseguenza non si apre nel frattempo nella foto non si vede alcuna cerniera o altra chiusura per darci la possibilità di aprire e indossare la gona la soluzione che abbiamo trovato è la seguente sulla parte inferiore la parte sinistra a distanza di 7,5 cm dalla linea del centro andremo a fare un'apertura in verticale di 11 cm nel nostro caso guardate dal centro davanti facciamo un'apertura di 11 cm cioè 7,5 cm dalla linea da una parte sui 11 cm in verticale se potremo riferire con l'orlino vi farò vedere tutto da vicino immaginiamo che questo è il tessuto faccio il taglio ed ecco cosa avremo qui ci sarà la cucitura del fianco destro con la quale si uniscono le due parti del davanti poi partendo dal fianco destro prendiamo entrambi i strati del davanti la parte sinistra e destra e arriviamo fino al taglio che abbiamo appena fatto da questo taglio continuiamo solo con lo strato superiore la parte destra del davanti così in questo modo vedete sarà libera il cinturino sarà di due dettagli davanti il primo dettaglio sarà cucinto partendo dal fianco destro fino a dove finisce la parte superiore del portafoglio e poi il secondo dettaglio parte dal taglio di 11 cm fino al fianco sinistro in questo modo attraverso l'apertura di 11 cm si potrà aprire e indossare la gona una volta cucito e rifinito tutto questa apertura di 11 cm sarà praticamente invisibile perché sarà nascosta dalla paramontura ecco che vi ho svelato questo trucchetto al quale abbiamo pensato all'apertura della gona sicuramente vi faremo vedere un video quando arriveremo a questo punto con questo abbiamo finito con la modellistica del davanti e ora possiamo continuare con la parte del dietro qui il lavoro è molto più semplice segno subito la linea vita nel centro dietro scrivo dritto filo e ora dobbiamo solo aprire per fare la svasatura traccio la linea partendo dalla punta delle pens sono due nel caso di inga abbiamo come vedete due pens per ogni lato che è la sua figura quindi taglio entrambi ok e svasiamo da tutte e due e ora la pens piccola la chiudo e apro del tutto in giù la pes grande tagliamo lo stesso ma poi vi faccio vedere cosa fa ora come detto questa piccola la chiudiamo del tutto questa grande la chiudiamo parzialmente che sia più o meno uniforme con la piccola ok l'altra rimane secondo me questa svasatura va benissimo in questo modo la pens grande è diminuita ma anche così ha un ruolo importante e ci garantisce una bella forma in questa zona quindi non la eliminiamo possiamo eventualmente farla un pochino più corta e abbiamo pronto anche il dietro della gonna ora vediamo cosa abbiamo fatto oggi il risultato sono questi tre dettagli parte sinistra del davanti parte destra e dietro abbiamo fatto la svasatura abbiamo il nostro portafoglio e avremo anche la doppia batonatura spero sia tutto chiaro nel prossimo video vi faremo vedere il taglio del tessuto e la prova con inga per questo modello sono necessarie due lunghezze di tessuto più qualche centimetro in più per il cinturino quindi preparatevi con questo vi saluto mettete like seguite i nostri canali youtube e instagram commentate fateci delle domande e comprate i nostri corsi imparate insieme a noi con voi siamo stati noi io Natale e tutto il nostro team grazie a tutti